Ho sempre detto che la fortuna dei numerosi successi che ho avuto è stata la possibilità di allenare dei grandi calciatori e sottointeso anche dei grandi uomini, ogni periodo ha le sue espressioni, in questo momento ci sono dei buoni giocatori, magari non grandi come quelli che ho avuto io la fortuna di allenare, però c'è la possibilità di costruire una buona nazionale anche in questo periodo. La qualità dei calciatori che c'è è dalla bravura dell'allenatore, Spalletti è un ottimo allenatore e sono convinto che riuscirà a costruire, non so se sarà un nazionale vincente, ma sicuramente complimentiva lo sarà.